Buongiorno a tutti cari youtubers e benvenuti al nuovo video del mio canale Oggi ritorniamo a fare le recensioni di un manga dovevo farlo di Prison School Ma ahimè l'ho prestato quindi non posso farvi vedere Prison School con tutti i numeri che ho preso Quindi ho deciso che Prison School lo rinvio a quando mi ritornerà indietro Oggi parliamo di un altro titolo che ho accennato e messo nella classifica del 2015 Ma di cui non ho mai parlato del tutto Ecco e quindi oggi parliamo di Secret Secret è il secondo titolo che ho preso di Yoshiki Tano Gai Lo stesso attore che ha fatto Judge Cosa possiamo dire di Secret? Che non è bello come Judge ma è bello comunque Ma a parte questo cosa possiamo dire? Partiamo prima di tutto dalla trama La trama parla di un incidente Inizia con un incidente stradale Di un autobus che si capovolge Un autobus che stava portando in gita dei ragazzi In questo incidente muoiono Quasi tutti più o meno A eccezione di 5 ragazzi che sopravvivono Il problema è che da qui poi ci sarà lo psicologo della scuola Che ha scoperto terribile mistero E dice ai ragazzi che tra loro 5 No 6 scusate non 6 Sono sbaglio Tra loro 6 Ci sono tre assassini E loro devono scoprire quale Hanno un tempo, una settimana per scoprire chi è Non lo sanno giustamente Scoprire chi è E di confessare alla polizia Nel caso non lo facessero Sarà lui a denunciare alla polizia L'omicidio di tre assassini Che stanno tre sopravvissuti di questo incidente L'incidente è provocato da un colpo di sonno Del guidatore di autobus Questa quindi era la trama Quanto riguarda il titolo in sé Non è male Costa 0,50 Quindi costa abbastanza E della J-pop Viene denominato Dark Suspense Suspense c'è Ma Dark è un po' meno Perché più che altro è un thriller Un poliziesco Oltre che la suspense che abbiamo La suspense La abbiamo come in Judge E credo anche come Dubbed Che non ho ancora preso Solo che magari qui È un po' più scontato Cioè Già dal secondo Abbiamo già Due Abbiamo già Scoperto Due tipo di Cioè Due eletti di assassini Ci manca da scoprire il terzo Che poi si scoprirà nel terzo Tra l'altro il terzo è abbastanza carino Abbastanza bello Come finale ci sta pure Anche se è un po' scontato E quindi niente Questa è stata una menzione Molto veloce Abbiamo qui Secret Primo volume Poi c'è il secondo Il terzo L'anno scorso Lo scappare L'avete visto anche Nell'ultimo video che ho fatto Voto Secret L'anno scorso Noi di più di sette e mezzo Tra sette e sette e mezzo Perché non è so granché E non è a livello di giaggio È bello Se vi piace l'autore E uscì titolo Hai Comprato Un must have Altrimenti potete farne a meno Come al solito Io faccio sempre vedere Un po' di Attezzatata E via dicendo Che sennò Pagina colori Sì soltanto forse Mi sembra La prima pagina Poi basta E basta Quindi questo qui È Secret Metto questo Il video di Bizon School Finirà direttamente A febbraio E Purtroppo Sarà così Altri video Da mettere Ci devo pensare su Perché Comunque Con sto mese Abbiamo messo su Sù dei video Probabilmente Siamo a questo Cioè Abbiamo messo su Un video Più questo Probabilmente Perché anche C'è una mancanza Proprio di tempo Stavano un casino Sto mese Per quello E adesso Incomincio Per l'università Settimana prossima E ricomincia Io vi rimando Al prossimo video Ah no Volevo darvi anche Una nuova Novità Per il canale Che riguarda Quello Che È un'altra Mia passione Che è la serie Che sono le serie tv Ne parleremo Nel prossimo video Un po' Di serie tv Vi annuncerò Un po' Di serie tv Che ho visto O che sto vedendo E che mi sono piaciute Riguardante Questo argomento Qui Non credo Di aprire Una playlist Ma di fare Un video Concreto Un video Solo Per adesso Quindi io vi saluto E qui Vi rimando Veramente Al prossimo video